Stai zitto, hai rotto il cazzo. Terzo turno, Livio contro Leo. Cioè, te lo dico col cuore, è il cazzo. Una partita da zitto, va. Cazzo. No, stai avendo, stai avendo. No, stai avendo, stai avendo. 17. Non ti ha piangere da me. Non ti ha piangere da me. Volevo giocarla. In questa mano. Fesi su Bacchia Mono, ultimamente. Però mi abbiamo usato molte volte. Poi ho fatto un rapido change con il lavoro di sorelline. Vado. E oggi Madoca. Vai. Era molto medico. Avevamo aspettato una sera a Bergamo. Sì. Mi hanno cambiato il progetto. Mi hanno cambiato. Cioè, non è cambiato. Questo è un uomo nuovo. C'è un team del PR1. No, c'è un nozionario. Se non hanno avuto fino al cuore, c'è un nuovo progetto. E se ne stanno andando. Cosa hanno abito? Cazzo, adesso sono veramente andati tutti. Sono lì da solo. Bene. 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 Quanto è? quando è in campo, scappando uno, per solidarmi. Dritto. Per prendere la macchina da due. Esco. Allia, ciao. Cazzo di ridi? Cazzo di ridi? Sì. 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 Anche tutti le due per me. Sì. 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 Faccio brainstorm. Per ogni clima, sariamo il posto zero della web. Sì. 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 Un gate. Faccio andare a questa. Non so. Sei pronto. Dritto. 6... 3 metri. Uno. Dritto. Parlo, parlo, parlo. Per il tutto. Parlo. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Un po'. Uno, due. Procco. Ci siamo. Sì, sì. Sì, sì, sì. Immagino qua quella bellissima mano. Cazzo. Un po'. Sotto regolare. Quanto sei qua in mezzo? Cinco e mezzo. Un po'. 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 No, carta in mano o quale? 5 Tu hai messo? Questa ha fatto il mio e la non c'è qui Ma ancora se mi chiedi là? Ti sento il mio e la non c'è qui Ho fatto il mio e la non c'è qui Al piede Tronto Tappo dal cibo Pronto Sono 6 Bolde Prendo Fa ben stacca Faccio un resto Quanti fanno? Gol 2 Anche la memoria è gonfia Eeeh Eeeh Quanto sono? 6.2 4.5 3.6 Porca troia E più che altro perché se non la faccio adesso che ho fuori 27 km Fa gelare Sicuramente il 4 Con le carte di male Poi Poi rimanere in una posizione 2.4 6.5.2 Ma non c'è Oggia 4.5.2 4.5.2 4.5.2 6.5.2 6.5.2 6.5.3 6.5.2 Quanto sono? 9 e mezzo, 9 e mezzo, 6 e mezzo, 8 e mezzo. 3, 4, 5, 6 e mezzo, 9 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 e mezzo, 10 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 e Sì, ma il problema è che ne ho fatto il brainstorm e arrivo doppia Emilia allo zero con Pupilivax. Allo zero? E l'ho mandato a due. Allo due, scusa. Vai. Vabbè, oddio. Non tanto, no. Provate. Allora, io devo brainstormare come se non ci fosse. Dell'Arch che è triggato ora. Diciamo cosa. Solo facciamoci. Un 5. Un 5. Allora, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Quello, carichi di box. Ciao. Ciao. Allora, non mi rovo il suo nome. Non lo vedo. Stai con il topo. 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 ciao ciao andrea ciao in no sense della storia non arrivo davide fatti vedere la mano ho collocato un trinex adesso ma hai visto Luca? sai che non arrivo al prossimo giugno? probabilmente non riesco ad attaccare per buttarne 8 ma ancora ho metto e io se mi posso fare un piacere dovevo fare un piacere perché si è capitato in quell'uno sul video poi postate i video sull'aiuto io lo so faccio il giugno 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 quanto ha fatto? ultraboluta unico modo c'è anche questo qua io ripeto non posso rarciare non ce l'ho non ce l'ho qua sono quelle diamanti qui è quello che si può fare è quel punto ti ha dato la desperta come vai un drone? hai visto? hai visto? è l'ultimo primo sono sette basta lasciate stare i miei bezzi Se hai la combo e una... No, ti so, per toglierti un po' di roba. Ah, gioc. Anche poi, no, ma non è solo questo. No, non è solo questo. No, non si fa tutto perché le ho messe. Perché a un certo punto decido di volerla fare e poi le ho messe. Sta male! Cazzo. Non voglio morire. Non voglio leo. Va bene. Penso di finire anche quelli in acqua, se no la finisco. Eeeh, ho chiuso a tenereci. Ah, non sa che la finisco stasera. Così almeno nascondo le prove. Pescio adesso. Pianza! Per il punto 3. Sì, è vero. Ecco dove erano. Ah, scherzo è fatto! Sei un dell'ultima ultima... Ah ahah! E' per... No, no, di loro, eh? No, state fuori. Ok, allora, la sua... Mancherà ancora un po'. Non ricordo mai. Quando reversa... Quando reversa... Ok. Vabbè, io... Magino. Ma un piggybacks, oh mio Dio, grazie. Se no, oggi un po' a badare, se non faccio il suo... Mmmmm... Non ho detto lei. Non schiava. Non ho detto lei. Non è convinto. Ma stichi che ma scogliamo! Si, dentro al posto di due... No no, no, non è per la scuola. Ma hai visto che c'aveva un senso sta cosa. Ora, ho convinto che non la giocassi, la coppa. Ok, era da un po' che non ho giocato. va bene, andiamo poi andiamo a scarrere il sanno, spero ho tutto il vento con tromba scarto quindi fanno un stop se lo giuro se lo giuro quello che vuoi allora qua te lo giuro sulla mia gatto adesso ti ritiro questa scarto guardavo la due un'altra e mezzo no, guarda mi saluterà quello che Luigi si, è vero praticamente due ho messato di uno ho messato di uno no non c'è quello adesso come vai? oh mio dio primo refresh all'interno non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è veramente quanto c'è non c'è è stato tutto il mazzo alla carta però allora iniziamo cosa succede? è che ti aspetta non c'è non c'è non c'è va bene non c'è 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 ma c'è non c'è non c'è non c'è ma c'è non c'è ma c'è ma c'è non c'è posso saldeggiare un pezzo se ci vengono qua non c'è se se 2k un pezzo poi poi dopo lei quando entro in gioco guardo fino alle prime due carte del mazzo una giungola altra scarto poi scarto non c'è ma ho parole 1 2 2 2 3 4 5 6 5 10 5 6 7 6 5 5 10 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 YouTube 10 11 13 13 13 14 15 16 15 16 17 16 No, prima la finisci... e poi è un po' di più grande e poi c'è un po' di più alta e quindi il bel bensì è arrivato a sì è un po' di più è un po' di più è un po' di più allora vi ringraziamo che è buono anche qui qua che è bella che è così se avessero così no no cosa hai ah uno e due una quattro una quattro una quattro ormai la una che ho carico è di cambia è di cambia non è non è un po' di più sono delle 15 è caduto è caduto il mio rotto una quattro una quattro un po' di più una quattro un po' di più quattro quattro cinque sono? Vai! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì.